carissimi amici bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a tenera amata questa è la puntata numero 33 molto verosimilmente sarà la puntata in cui concluderemo la lettura del testo e il commento di tenera amata tuttavia dico subito che ritengo opportuno fare una piccola appendice una serie di incontri successivi in cui grazie alla cortesia del caro sacerdote credo anche amico don pablo martin avremo la possibilità di ritornare sui concetti affrontati dal testo di tenera amata voi sapete che don pablo martin è l'autore della traduzione italiana di questo testo che abbiamo letto e traduzione che evidentemente ha intrapreso non a caso perché accolto con estrema sapienza essendo probabilmente il massimo esperto almeno tra i sacerdoti di ciò che è la divina volontà secondo la liberazione avuta dalla serva di dio luisa piccarreta accolto in essi e quindi si è imbarcato in questa cosa e ha scritto quindi un testo che cominceremo a vedere dalla prossima volta se dio vuole e che dunque vediamo un pochino se lo trovo si chiama si chiama vi sentito subito il mistero dell'ora presente sottotitolo il tempo passa in fretta rimane o finirà che è proprio un commento una rievocazione quindi un approfondimento una focalizzazione di alcuni concetti chiave immersi nel testo di tenera amata soprattutto come possiamo immaginare i concetti di tempo eternità creata eternità increata che evidentemente devono essere definitivamente assimilati al termine di questo incontro quindi penso che farò ci ho pensato un po ma ritengo opportuno ecco farò questo prolungamento di questo ciclo di catechesi diciamo un pochino certo non c'è più il fascino diciamo il contatto diretto con le cose che dice tenera amata però c'è un'ulteriore riflessione approfondimento a me sembra opportuno poi evidentemente nessuno sarà obbligato a seguire come obbligato a seguirle adesso no allora torniamo al nostro testo perché siamo arrivati al capitolo 32 è un capitolo che ci avvia verso la conclusione perché sono due piccolissime una paginetta e mezzo e dopodiché il 33 è il ritorno alla coscienza andiamo a leggere i commiati sono sempre un po troppo tristi però ecco ho voluto anticipare che ci sarà un appendice in modo tale che lo sia un po meno all'improvviso senza sapere come mi trovai di nuovo seduto sulla vecchia poltrona della mia saletta l'immagine del televisore continuava immobile la sigaretta con la sua spirale di fumo immobile inconclusa nel portacenere alla mia destra tenera amata si era nuovamente seduta sul divano che forma angolo con la mia poltrona sembrava che ogni cosa continuasse come prima del vertiginoso viaggio a san lui potosi quindi rientrano escono dai paratempi che gli hanno consentito di farsi questo viaggio intertemporale non lo chiamiamo così secondo le nostre categorie e rientrano e tornano a quello che era sempre secondo le categorie che abbiamo visto e abbiamo scoperto essere molto molto soggettive anche se a noi si pensano ci sembra che siano molto oggettive tornano al tempo diciamo così del presente di allora quindi del 1900 mi ricordo 77 78 79 dove si trova dove dove ricardo ricevete questa inaspettata visita tenera amata prende la parola nessun mortale si può salvare senza la fede mi disse la mia bella visitatrice sfiorando con le dita della sua mano destra il dorso della mia sinistra paralizzata sul bracciolo della poltrona e la fede equivale a quello che non si vede perché se si vedesse voglio dire se si comprendesse veramente non sarebbe più fede ma evidenza pertanto quando me ne andrò finirà il nostro paratempo la tua vita proseguirà il suo corso normale non rimarranno segni evidenti della mia presenza ricorderai questa conversazione ma dubiterai se sia stato un sogno o una realtà ma persisterà l'operato che il nostro dio ha fatto nella tua anima ora questo passaggio amici miei cari è importantissimo tu dici e ma uno che ha visto quello che ha visto ricardo adesso è adesso no perché quando si hanno esperienze soprannaturali e tra l'altro uno dei segni non vorrei dirle troppo queste cose perché dopo se qualcuno pensa di avere segni soprannaturali va a parlare con con un predesi presente in questo modo uno dei segni buoni che uno sta vivendo un'esperienza soprannaturale è quando non è convintissimo ma quando diceva boh io racconto quello che è però mi sembra strano ecco questo è già un ottimo segno di di attendibilità certo quando una persona molto sicura di sé io ho visto la madonna già questo è un pessimo segno lo dico io questo qui chiaramente questi sono criteri oggettivi ora anche quando si avessero esperienze soprannaturali la dimensione della fede fino a quando siamo in questo mondo figlioli miei cari mettiamocelo bene in testa non è mai bypassata mai perché che dio ha stabilito di salvare il mondo mediante la fede è scritto a carattere di cubitella chiarissimi lettere in tutto il nuovo testamento e la fede non può essere mai evidenza se tu avessi qualche cosa che tu assimili e fai tuo a livello di un'evidenza la fede sarebbe finita ma dio non vuole affatto che finisca la fede e quindi le evidenze le certezze assolute in questo mondo dimentichiamocene questo perché la fede anche se la fede dipende da una virtù soprannaturale ci insegna la sana dottrina cattolica che è infusa in noi con il battesimo e che deve essere da noi custodita fatta crescere alimentata è tuttavia la fede però è anche un atto come tutti quanti gli atti che dipendono dalle virtù un atto meritorio perché non è che la fede funziona automaticamente la fede va esercitata una persona la fede la può perdere una persona può peccare contro la fede dubitando perché dubitare è peccato il dubbio sulla fede che molti ritengono normale è peccato attenzione a dubbi peccato sulle cose che riguardano la fede divina e cattolica cioè esisterà l'inferno boh peccato mortale perché perché esista l'inferno è più sicuro che due più due fa quattro perché le verità di fede hanno questo grado di certezza non sono evidenti e non hanno il crisma dell'incontrovertibilità fondata sulla constatazione empirica come la cosiddetta scienza carileiana ma hanno come dire quell'incontrovertibilità fondata sull'autorità stessa di dio se dice una cosa e si rivela una cosa dio non mente non ne può sbagliare ne può ingannare quindi è più sicuro che esista l'inferno che non che due più due faccia quattro questo è il grado di certezza come dire interiore che ci danno le verità di fede e quindi dubitare non c'è non può essere ecco ricardo dice ma perché metterò in dubbio questo mio incontro con te il più importante della mia vita e dice conviene che tu abbia il dubbio della realtà della mia visita a mappa adesso guardate credetemi non non avevo riletto quello che sto leggendo adesso perché adesso ripete quello che ho appena detto teneramata me ne sono accorta adesso no scusatemi conviene che tu abbia il dubbio della realtà della mia visita affinché non sia perturbato il merito della tua fede il cristiano autentico crede nella parola divina solo perché il nostro dio l'ha dettata perché egli non può ingannarsi né ingannarci perché è degno di essere creduto da ogni creatura razionale e niente altro chiediamo al signore amici miei cari di darci sempre questa fede senza andare a cercare niente di supplementare di straordinario zero prosegue teneramata se alla fede si aggiungono determinati fatti straordinarie diminuisce il merito della collaborazione umana con la volontà divina e decresce il grado di gloria nel cielo ci vorrei vedere tanto miracolo ma se vedi un miracolo avere fede sarà meno sarà meno impegnativo no sarà meno difficile perché la fede allo stato puro cammina proprio al buio l'ha detto dio chiuso il discorso non voglio sapere basta e avanza quindi l'unica cosa che dobbiamo fare su questo dobbiamo essere formati è sapere se una determinata cosa è una verità di fede e guardate che su questo oggi siamo proprio a livello proprio non grossolano di più sulle piccole come sulle grandi cose cioè sulle 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 grandi tematiche di fede tipo per esempio l'esistenza degli spiriti ribelli oppure sulle altre il problema è che tutti quanti si ergono a dottori pontefice maestri no per esempio cominciamo dai gradi bassi della gerarchia che tutto quello che dice un prete è verità colata secondo voi l'ha detto il prete e allora l'ha detto il prete chi ti assicura che quello che ha detto il prete sia verità colata andiamo proprio su l'ha detto il vescovo e allora vogliamo andare ancora più su l'ha detto il cardinale e allora e allora e allora col papa il discorso un pochino un po più un po differente nel senso le cose di cui sempre risponde lo spirito santo per tutti i membri della gerarchia per esempio cattolica sono le azioni sacramentali in senso stretto per cui risponde sempre lo spirito santo e risponde a prescindere dalle qualità soggettive della persona ma per esempio se io faccio una predica chi l'ha detto che in me ha parlato lo spirito santo non è automatico non è affatto automatico perché lo spirito santo certamente accompagna con la sua grazia la missione di un sacerdote attenzione però a condizione che il sacerdote viva in grazia tu sei sicuro che il sacerdote sia in grazia? chi te l'ha detto? accompagna la missione di un vescovo a condizione che il vescovo sia in grazia noi lo speriamo lo vogliamo presumere presumiamolo ma non ne possiamo essere sicuri al 100% anche quando parla il papa quando è orocolato quello che dice il papa quando parla ex cattedra quindi il magistero solenne straordinario nelle altre circostanze certamente il ministero petrino gode dell'assistenza ordinaria dello spirito santo ma non rende ipso facto infallibile tutto quello che il papa dice nemmeno nelle sedi opportune cioè nelle manifestazioni consone proprie degli atti come dire di magistero pontificio ma se un papa va a pranzo con qualcuno e parla non è che uno deve pensare che tutto quello che il papa dice è Gesù Cristo in persona che stia parlando attraverso di lui quando sta a pranzo con altre persone faccio questi esempi perché noi dobbiamo avere un po' di discernimento perché sulle cose di fede divina e cattolica non si discute se vogliamo avere grande merito nell'esercizio della nostra fede però non si discute sulle cose di fede divina e cattolica non su quelle che io penso che siano tali e magari mi metto pure a fare il maestro e il professore quindi su questo è molto importante avere una buona formazione quindi più punti di appoggio esterni alla pura fede ho meno meritoria la mia fede sarà e meno gloria avrò in paradiso quindi diminuisce il merito della collaborazione inumana con la volontà divina e decresce il grado di gloria nel cielo nostro Dio prosegue tenera amata è giusto rimuneratore e quanto dicono le parole di nostro Signore Gesù Cristo a Santo Ommaso l'Apostolo? perché mi hai visto e creduto? beati quelli che senza vedere hanno creduto tra questi stai tu ma non fa niente che dubiti la nostra intervista perché la cosa principale la cosa veramente essenziale è già stata fatta hai riconosciuto le tue idee religiose e alcune di esse sono diventate attenzione a questa espressione che abbiamo incontrato tante volte convinzioni profonde e operative cioè anche un'esperienza di questo genere ha un fine fondamentale cioè il nostro grado di adesione alle verità di fede deve essere forte deve essere intenso faccio un esempio se io ci credo veramente che ogni giorno che passa mi sto scrivendo la mia sorte eterna d'accordo? e ci penso è evidente che se mi trovo nell'occasione di poter fare una cosa buona un atto santo anche un atto non usiamo il termine proprio eroico ma impegnativo ma certo che lo faccio è chiaro che se a me non me ne importa niente non ci credo che che per esempio in paradiso che Dio è giusto rimuneratore quindi non mi darà in paradiso nemmeno uno iota di gloria in più rispetto a quello che mi sono strettamente meritato qui la misericordia non c'entra niente qui la misericordia serve a perdonare i peccati non ad aumentare la gloria del paradiso sia chiaro questo qui la gloria del paradiso aumenta se tu te lo meriti voi pensate che siano in molti ad avere oggi questa convinzione profonda e operativa? io penso che sia quasi nessuno proprio attraverso le distorte idee oggi diffusissime della misericordia che fanno Dio di Dio di Dio un buon accione che porta tutti in paradiso e qualunque cosa abbiano fatto e tratta tutti quanti allo stesso modo perché non si discrimina non si discrimina neanche Dio ti pare che Dio discrimina? Dio discrimina e come? discrimina significa che giudica e giudica sulla base di quello che che se ne è fatto il suo giudizio è perfettissimo non diamo retta a queste cose che sono figlie della nostra mentalità della nostra scusate se io mi chiamo fuori però perdonatemi della mentalità del mondo di oggi pagano e senza Dio la cultura in cui viviamo l'ethos il contesto sociale è senza Dio questo mettiamocelo bene in testa perché noi non possiamo da figli di Dio ripetere a pappagallo per esempio alcuni slogan cari oggi al sentire comune che sono sbagliati non bisogna discriminare allora questa frase va molto circostanziata perché la giustizia non è dare a tutti la stessa cosa questo lo sapete anche i romani la giustizia è dare a ciascuno il suo il suo significa quello che si merita per cui se per esempio una cosa è cattiva non è che non discriminare significa dire ah siccome non posso far sentire in colpa quello che sta facendo una cosa cattiva devo dire che è buona non è che ci vuole tanto a far a far due più due no? siccome non devo far sentire in colpa le persone che hanno tendenze omosessuali perché altrimenti cioè si sentono male si sentono in colpa si sentono che stanno facendo qualcosa di male e io non posso dargli questa sofferenza perché poverini allora devo dire che non fanno niente di male e che quello che fanno non è altro che una variante possibile dell'amore umano questo è quello che c'è adesso nel contesto sociale ma noi non abbiamo non diremo mai una cosa di questo posso fare tutte le altre leggi sull'omofobia se le faranno se non le faranno ma guai se qualcuno dica una cosa di questo genere non lo può dire sulla base della rivelazione non lo può dire non si può un conto è la coscienza soggettiva delle persone quindi il modo con cui ci è arrivato perché per come se c'è circostanze attenuanti questo lo giudica nostro signore non è nostro compito non è nemmeno nostro compito imporre o togliere la libertà tu vuoi vivere questa cosa il libero arbitro nostro signore l'ha dato a tutti quanti pensi che non ci sia niente di male vuoi farlo padronissimo padronissimo ma che io dica tranquillo non c'è niente di male come chiesa non lo posso dire perché c'è un dato chiarissimo della della rivelazione che dice che c'è problema e come non è certamente l'unico peccato contro il sesto comandamento perché ce ne stanno tanti altri ecco però anche questo è un peccato contro il sesto comandamento e come tutti i peccati contro il sesto comandamento non è un peccatuccio di gola o una bugia di scusa ecco proseguo sempre la lettura quindi la cosa fondamentale anche delle nostre esperienze anche di quello che ascoltiamo quali sono i nostri punti di riferimento le persone a cui noi diamo credito dai credito alle persone che quando le ascolti aumentano in te le convinzioni profonde e operative cioè molti dici ma che belle sono le prediche di Don Leonardo ammesso che lo siano non è tanto importante che siano belle la cosa importante è se tu ascoltando le cambi vita in meglio in meglio che siano belle non fa niente ma la cosa importante è che producano il cambiamento di meglio della vita ah se ti fanno questo effetto ascolta tutte tutte quelle che vuoi non troppe che tanto non servono ma ascoltale se no cambia canale d'accordo perché tu devi cercare un input una fonte che all'interno del patrimonio di fede che già hai ti aiuti però a trasformarlo in condizioni profonde operativi che è la cosa più importante gliel'ha detto cento miliardi di volte quando diceva ma beata te io non vedo la te morì cerca di vivere al meglio quello che ti resta perché non è un problema di morire se vuoi vivere le cose che vivo io devi metterti in condizione di poterle meditare possibilmente anche di più non come me che purtroppo sono arrivati a livelli si sono fermati a livelli abbastanza bassini allora dice prosegue Riccardo quindi penserò che questa meravigliosa conversazione e il nostro viaggio a San Luis sono state semplici illusioni e lei gli risponde sarà così quindi stiamo leggendo il libro scritto da un tizio che l'ha scritto nonostante che poi abbia pensato che se l'ha sognato ma fa molta attenzione a questo vale di più una santa illusione alla divina che tutte le realtà alla mondana questa è una volta cosa da da mettercela da mettercela bene in testa cioè che cosa sta sta dicendo se è un qualcosa se è un qualcosa anche diciamo che fosse veramente un'illusione in questo caso non lo è stato ma se è un'illusione alla divina cioè ti fa crescere in santità ma ben venga se invece una cosa molto reale ti mondanizza quindi ti fa diminuire ti fa perdere la fede o te la fa diminuire o ti diminuisce le convinzioni profonde operative non ben venga questo non vuol dire che abbiamo la pressa alle favole capite no? il senso di quello che sta dicendo molto molto importante mi dimenticherò forse di te dice Riccardo poverino ha paura ma certo che no il nostro Dio è molto rigoroso quando si tratta della fede delle opere di amore di carità di ciascuno di noi perché è giusto difensore dell'onore divino ma anche questo ricordiamocelo non è un tiranno Dio non è un tiranno e quindi da che segue che a Dio non piacciono i tiranni il tiranno è uno che ti costringe per forza a fare una cosa magari anche sbagliata magari anche contro la tua coscienza perché si è messi in testa che quella è una cosa che tu devi fare Dio non agisce così non lo fa mai anzi questo qui lui ci guida attraverso convinzioni profonde operative vuole che tu un valore lo scopri lo fai tuo lo acquisisci e dopodiché lo persegui con un atto di libera volontà e in esso rimani una volta che l'hai maturato difendendolo e seppure c'è tutto quanto il mondo contro vai avanti lo stesso non è un tiranno e noi dobbiamo guardarci anche dai tiranni perché non è obbedienza a soggettarsi a un tiranno questo sia ben chiaro chiunque sia il tiranno non è obbedienza Dio non vuole che ci sia soggetti ai tiranni Dio non approva le rivoluzioni armate o cose o le reazioni come dire indebite a queste cose cioè io il tiranno lo sopporto nel senso che lo riconosco mi sta angariando chi lo sa che peccati avrò fatto penso per meritarmi una cosa del genere ma io non devo sottostare devo difendermi dalle imposizioni tiranniche fino a dove è possibile evidentemente con mezzi leciti e consentiti dalla nostra fede divina e cattolica e anche qui si aprirebbe sia tutto quanto un mondo perché i mezzi devono essere leciti perché io non posso perseguire anche una cosa buona o un diritto utilizzando mezzi cattivi vabbè comunque non è questo l'argomento della discussione della carichessi di questa sera no Dio non è un tiranno tutto al contrario è benevolo sostenitore dei grandi amori che egli ha stabilito questa è un'altra cosa che abbiamo imparato i grandi amori che egli ha stabilito quindi non ti dimenticherai di me perché Dio è un benevolo sostenitore degli amori che ha stabilito tenere la mata mi sorriso con quel suo sorriso così sincero così allegro così indimenticabile perché scaturivo dalla sua felicità celeste mi guardò con tanto affetto e soggiunse ormai devo andare ai 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 quando si sentono queste cose queste frasi è tempo di andare sono frasi molto dolorose proviamo a immaginarci no metterci nei panni di questo uomo gli prende un infarto no perché le persone che hanno contatti con l'aldilà o con con il soprannaturale tutti quanti noi pensiamo che sono tanto contente certo che lo sono ma qui finisce tutto finisce nel piccolo quindi una persona che per esempio è pensiamo a Luisa Piccarreta che spesso vedeva Gesù e poi però se ne andava e lei rimaneva morta no e delle cose a volte possono anche finire pensiamo a uno che ha visto una madonna per tanti anni e a un certo punto la madonna mi dice da oggi in poi non mi vedrai più immagini sto paraccio cosa può stare e allora Riccardo dice ma no per favore ancora no non era il complimento della buona educazione ma il bisogno della sua presenza che mi spingeva a trattenerla cercai di alzarmi in piedi per toccarla per fermarla ma questa volta la mia paralisi era totale mi sorrise con quelle sulle due belle fossette e mi disse che altro vuoi domandarmi posteriormente mi vengono in mente molte altre questioni riguardanti i problemi inquietanti di questa vita ma in quel momento non ricordai nient'altro non fa niente non ti preoccupare mi consorò con tenerezza il nostro Dio ti concede una seconda forse ultima intervista straordinaria prima della tua morte quando avverrà quella nostra prossima conversazione dove? risponde tenere amata non lo so ne devo indagarlo il Signore attua di sorpresa cerca di trovarti sempre ben preparato il Signore fa le sorprese quando uno te l'aspetti ti fa qualche bel qualche bel santo scherzetto soprannaturale e tu rimane bocca aperta dobbiamo essere sempre pronti però alle sue sorprese dice tenere amata il bel corpo di tenere amato incominciava di tenere amato incominciava a diventare trasparente e la mia tristezza si trasformava in un'angustiosa in un'angustiosa impotenza aspetta aspetta la supplichai per trattenere il suo corpo che vaporoso che svaniva dice che altro vuoi mi disse con tenerezza con la tenerezza che significava il suo glorioso nome nuovo voglio te gli risponde Riccardo ti amo più di me stesso e lei gli risponde lo so e anche io ti amo ti amo di più di quanto tu mi ami ma io non sono il tuo unico amore ricorda amerai è il Signore tuo Dio in primo luogo io occupo nel tuo cuore uno degli ultimi posti è il nostro Dio quello che ti ama quello che veramente ti ama moltissimo più di me guardate che grande no? e questo non dobbiamo dimenticarlo mai abbiamo fatto un viaggio all'interno degli amori accidentali ma tutti gli amori accidentali sono appunto amori accidentali la gloria accidentale è gloria accidentale la gloria essenziale è gloria essenziale il primo comandamento è amare al Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze gli altri amori vengono sempre dopo dice io occupo nel tuo cuore uno degli ultimi posti guai a noi se qualunque tipo di amore umano fosse anche il più santo viene prima dell'amore di Dio e anche su questo amici miei cari per favore tutti l'esame di coscienza ma questo sta scritto nel Vangelo che noi dobbiamo prenderlo sul serio chi ama il padre o la madre più di me ha detto Gesù non è degno di me chi ama il figlio o la figlia più di me il figlio o la figlia non è degno di me sta parlando degli amori più santi perché l'amore materno e paterno e l'amore filiale sono tra gli amori umani più santi chi viene a me non odia suo padre sua madre la moglie i figli i campi e perfino la propria vita non può essere mio discepolo possiamo noi per amore della creatura contristare il creatore può un giovane o una giovane che si sente chiamata o chiamato alla vita claustrale per esempio o alla vita sacerdotale sapendo che uno o entrambi i genitori non è che sono tanto credenti che gli darà un dolore immenso dire no vabbè lasciamo perdere papà e mamma soffriranno troppi si può fare? può uno sposo o una sposa per compiacere l'altro andare contro la legge di Dio? si pensi in modo particolare a certi argomenti? mi sono spiegato spero no? si può? punto interrogativo può un genitore per esempio impedire a un figlio di seguire la propria vocazione quindi non darlo al signore che ama il figlio o la figlia più di me può una persona perdere la fede o prendersela con il padre eterno se il padre eterno gli chiede il sacrificio grande della vita di un figlio io le ho vissute queste cose quindi non so bene no? sono cose grosse ma l'amore di Dio viene prima di tutto guai voi sapete perché molti i matrimoni vanno a finire malamente ve lo dico io ho questa presunzione perché il promesso sposo o la promessa sposa si aspetta che il promesso sposo o la promessa sposa siano il padre eterno cioè proietta tutte quante le proprie ansie di felicità il proprio amore il proprio desiderio di essere amato su una creatura ma questo non è il matrimonio cristiano molta gente pensa vabbè amerai il signore di Dio Dio con tutto il cuore con tutte le forze ah sì questo devono fare i preti le suore i frati i monaci ma non io io no io sono un laico io ho la moglie ho i figli e allora non mi sembra che il nostro signore abbia detto che il primo comandamento è per frati suore preti e monache no nel Vangelo nel Vangelo non c'è scritto questo non in tenera amata è nel Vangelo tenera amata che sta ricordando il Vangelo e anche perché chi ci ama veramente ma proprio tanto colui che ci ama veramente tanto è il nostro Dio e noi dobbiamo riconoscerlo imparare a conoscerlo e a riconoscerlo e a ricambiarlo la mia bella visitatrice svaniva senza che potessi fare nulla per impedirlo povero Riccardo attraverso il corpo della mia amata si vedeva la spalliera del divano e la saluta così che bello arrivederci amore mio e lui gli risponde a presto tenera amata un po' drammatico il finale capitolo 33 epilogo tutto ritornò alla normalità guardai il mio orologio erano le 3.18 del pomeriggio poi chiesi loro per telefono e constatai che il mio orologio era 8 minuti avanti erano forse quelli che passai con Bianca nel cortile dell'università veramente avevo vissuto io 8 minuti extra il problema era sapere che aveva ragione il mio orologio spostato in avanti era ovviamente arricchita continuarono i disegni animati alla televisione la spirale di fumo della mia sigaretta pieni di svilupparsi di nuovo sentì il rumore che veniva dalla cucina mi sembrò di essermi appena svegliato da un lungo e piacevole sogno invocai a tenere amata ma fu inutile avvenne quello che lei mi aveva predetto dedussi che tutto era stato un magnifico sogno tuttavia il suo influsso su di me era troppo vigoroso per relegarla come una semplice conclusione guardai il pacco di sigarette vedete guardate e mancava il cellofan vedete i segni però il cellofan qua non c'è il cellofan ricordiamo con cui tenere amata ha fatto la pallottolina e guardate guardate ero stato io stesso a toglierlo in un atto di sonnambulismo e se l'avevo fatto in che momento era statua i disegni animati della televisione non si erano interrotti ma davvero mi era addormentato o invece avevo realizzato un fantastico viaggio nella quinta dimensione inoltre la suola delle mie pantofole sentite era bagnata quindi notate tutti quanti questi particolari quindi il cellofan delle sigarette non c'è più ricordiamo che in uno dei posti dove era stato pioveva la suola delle mie pantofole era bagnata forse per le pozze d'acqua del cortile nell'università è ancora qualcosa di sconcertante il mio caffè era ancora caldo allora perché fa tutte queste considerazioni? noi sappiamo che loro si sono mossi in dei paratempi infinitamente piccoli quindi il tempo trascorso reale era pochissimo ma come gaspita è possibile che quindi però noi abbiamo fatto 33 puntate per stargli dietro 33 puntate sono 33 ore certo abbiamo fatto tanti commenti però quanto sarà durata secondo che ne so se fosse stata in categorie temporali normali come è possibile che stanno a correre i disegni animati che sono affermati da quando è cominciato il sogno e sta andando avanti adesso e la sigaretta è ancora accesa mi mise a riflettere su ciò che avevo sognato su ciò che avevo sognato che bella te n'era amata ma le idee che chiarificò nella mia mente non sono concetti troppo elevati per essere di mia invenzione mi sono inventato tutto me lo so sognato però mi sarebbe mai venuto in mente di pensare che esiste la quinta dimensione che abbiamo tutti quanti i nostri vari corpi quindi tutti quanti il loro organismo integrale il nostro corpo integrale che non ci separiamo mai completamente dal corpo che esiste l'eternità creata che ci stanno gli amori sopranaturali che in cielo ci stanno tante quelle cose belle posso essermi inventato tutte queste cose mi vennero alla memoria le sue idee ricorderai questa conversazione ma dubiterai se fu sogno in realtà e conviene che sia così affinché il merito della tua fede non sia perturbato lei aveva ragione io adesso stavo dubitando come conosceva bene il mio spirito ignorante indeciso e positivista ricordai anche quest'altra idea sua vale più di una santa illusione alla divina che tutte le realtà alla mondana mi sembrò molto vera perché qualcosa del mio interiore mi diceva che qualsiasi avvicinamento sincero a Dio è più reale più vero che la porosa materia che è dintorno la cui pienezza è quasi quella di uno specchio che sembra pieno e invece è vuoto se il mio sogno meraviglioso fosse una rivelazione direi le parole del cantico dei cantici il mio segreto è per me ma nel dubbio mi attengo a quanto afferma San Paolo cercate le cose di lassù dove Cristo è assiso alla destra di Dio gustate le cose del cielo non quelle della terra bellissimo passo della lettera ai Colossesi questo re più ci pensiamo e meglio è preferisco seguire questo consiglio più che accontentarmi di un vano sogno di fantacosmologia però mi fece anche impressione quest'altra sua idea persisterà tuttavia l'operato che Dio ha realizzato nella tua anima sì oggi lo comprendo posso dubitare dell'intervista con te nella mata posso dubitare della quinta dimensione posso dubitare di tutto persino di me stesso posso dubitare persino che stia dubitando qui sembra di vedere un certo René Descartes ok al secolo meglio noto come Cartesio il dubbio metodico la fine del pensiero occidentale è stata questa considerazione di Cartesio ma adesso non è il caso di approfondirle ma c'è una cosa di cui sono assolutamente sicuro Dio mi ama ama me singolarmente come se io piccolo e miserabile fossi l'unico oggetto del suo amore questo non dimentichiamolo mai lo dico in continuazione l'ho detto tantissime volte Dio ti ama talmente tanto che tu devi pensare che ti ama ti segue in ogni come se non ci avesse altro a cui pensare cioè se di tutto ciò che è esistessi solo tu quindi Dio non ci avesse proprio oggettivamente altro a cui pensare perché non ci fosse nient'altro bene devi immaginarlo così e questa splendida conoscenza rimane radicata nella mia anima come il dolce sprone di una convinzione profonda e operativa e questo deve rimanere se noi fossimo convinti al 100% di questo vogliamo fare un po' di esempi così concludiamo con un pochino tu allora convinto che Dio ti ama singolarmente come se non avesse nessun altro oggetto d'amore allora Dio ha detto non commettere atti impuri facciamo un pochino di esempi sembra un po' io sono un ragazzotto di 18-20 anni fidanzatino con gli ormoni a mille Dio mi ama come se non ci avesse nient'altro a cui pensare mi ha detto questa cosa perché me l'ha detta è detta per il mio bene e quindi e quindi mi faccio ammazzare ma questa cosa si fa punto e basta mi capita una disgrazia che faccio comincio a dire perché proprio a me o me la prendo col Padre Eterno comincerò a riflettere un pochino su quella disgrazia perché quelle che noi chiamiamo disgrazie non sono mai disgrazie sono sempre atti d'amore anche quando fossero semplicemente permessi o per metterci alla prova o per correggerci di qualche cosa che non va che stiamo facendo o perché il Signore ci chiede di offrirgli qualche sofferenza e non è una con le sue diciamo tante le motivazioni ma io sono l'unico oggetto del suo amore mi circonda in continuazione e però ho 177 mila acciacchi sto perdendo la salute benissimo bene per te senza nessun dubbio non sto facendo discorsi da 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 strana ma pensateci se io se se Dio è questo e ha questo rapporto con me la conseguenza è quella che sto dicendo certamente ma se io non riesco a pensare in questo modo perché non ci riesco perché ancora non c'è una convinzione profonda e operativa di tale conoscenza di fede d'accordo d'accordo concludo leggendo qualche l'ultima pagina qualche attestato di alcuni personaggi che sono stati messi in fondo alla allora non posso fare a meno di vedere con simpatia il suo impegno nel procurare tra i fedeli di oggi il progresso della perfezione cristiana nell'ambiente in cui si vive sono opportuni quegli orientamenti che si danno in conformità con gli insegnamenti della Chiesa questo ha detto padre Costantino Coser Ordine dei Frati Minori Ministro Generale dell'Ordine Roma poi dice Fr. Sigcardo Kleiner Abate Generale dell'Ordine dei Cistercenzi sebbene non mi darò di seguirla in tutte le sue affermazioni trovo quest'opera molto interessante ed originale in tal senso le prego di accettare i miei auguri in Cristo nostro Signore padre Antonio Leghisa superiore generale della congregazione di Claretiani il libricino apre prospettive di speranza al cristiano e ad ogni uomo abbiamo bisogno di motivi di gioia e di serenità in questo tempo che viviamo e ha contribuito a svegliare coscienze che ne hanno il bisogno addirittura su eccedenza Monsignor Romero vescovo famoso del Centro America assassinato dice quest'opera acquista particolare interesse in quanto rivela la ricchezza di vita interiore di un laico che vive i criteri di Cristo e che invita tutti a percorrere la via del regno nella visione naturale della sua consumazione il che significa vivere la vita con la speranza che imprime a tutti i nostri dati di valore trascendenti ancora sua eccellenza un altro vescovo anche questo assassinato Monsignor Ocampo vescovo di Tijuana in Messico le esprime il mio augurio per il carisma che Dio l'ha dato per scoprirlo e per fare che altri uomini pure lo scoprono nei segni dei tempi infine la rivista Caridad in ogni caso la pagina di questo libro pur non essendo affatto dogmi di fede senza lasciarli essere in qualche caso discutibili allargano il cuore arricchiscono la fede approfondiscono il senso della vita e prospettano una profonda comprensione delle possibili vie della speranza di Dio nell'abilità di questo mondo un libro inoltre ben scritto senza autosufficienza e con semplicità chiudiamo qui oggi amici come accennato all'inizio dalla prossima volta con l'aiuto e con la sapienza che prenderemo in prestito da Don Pablo Martin ripercorreremo alcuni concetti basilari di quest'opera perché possiamo terminare questo ciclo di catechesi con convinzioni profonde pratiche operative belle solide e con uno slancio in più verso il nostro personale cammino di santificazione che Dio vi benedica e che la Madonna tutti e sempre vi protegga grazie a tutti